Illustri ospiti, cari consoci, signore e signori. Nel giugno scorso l'Accademia delle Scienze ha provveduto, in vista della consueta scadente triennale delle cariche, a rinnovare i suoi vertici. Presidente è stato rieletto che vi parla e perciò aspetta ancora a me il compito di rendere pubblicamente conto dell'attività svolta e di delineare progetti futuri, mentre vicepresidente è stato eletto Gianfranco Gianotti e tesoriere è stato confermato Alberto Piazza. La classe di Scienze Fisica ha rieletto direttore Franco Pastrone e segretario Roberto Compagnoni, la classe di Scienze Morali ha eletto direttore Massimo Mori e segretario Fausto Goria. Infine, membro del Collegio dei Revisori dei Conti di rappresentanza dell'Accademia è stata designata Maria Itala Ferrero e membro supplente Gian Savino Penevitari. Al nuovo vicepresidente e nuovi direttori il segretario della classe di Scienze Morali rivolgo un augurio particolare, certo di poter contare sul loro sostegno come su quello degli altri membri del Consiglio di Presidenza. Desidero rivolgere il più vivo ringraziamento ai soci che hanno preso parte della nostra attività, in primo luogo ai colleghi del Consiglio di Presidenza, associando a essi i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e il personale tutto dell'Accademia, il cui contributo è stato come sempre prezioso e insostituibile, nella buona come nella cattiva sorte, in particolare nei momenti di maggiore difficoltà. Senza il loro sostegno, senza il loro costante impegno, non sarebbe stato possibile portare a buon fine i programmi che l'Accademia si era prefissa e che sono stati perseguiti con successo nel corso di quest'anno come dei precedenti. Prima di riferire sulle iniziative dell'anno accademico appena concluso, è mio dovere ricordare i soci che ci hanno lasciato nei mesi scorsi. Nella classe di Scienze Fisiche sono decenuti il socio nazionale residente Aldo Fasolo, professore merito, già ordinario di Biologia dello Sviluppo dell'Università di Torino e direttore della classe di Scienze Fisiche dell'Accademia. Il socio nazionale non residente Giuseppe Grioli, professore merito, già ordinario di Meccanica Razionale nell'Università di Padova. Il professor Grioli era il nostro decano anagrafico, non di anzianità accademica, è morto a 102 anni. I soci corrispondenti Guido Zappa, professore merito, già ordinario di Algevone dell'Università di Firenze, Giorgio Salvini, professore merito, già ordinario di Fisica Generale della Sapienza dell'Università di Roma, Edoardo Mentasti, già professore ordinario di Chimica Analitica dell'Università di Torino, Giorgio Stacoli, professore merito, già ordinario di Analisi Chimica Strumentale dell'Università di Torino, Augusto Azzaroli, professore merito, già ordinario di Paleontologia dell'Università di Firenze. Purtroppo a anno accademico iniziato, l'altro ieri abbiamo preso la notizia della scomparsa del nostro caro consorcio Gallino, che era decano dei sociologi italiani e uno dei nostri membri più antichi e più attivi nell'Accademia. Nella classe di Scienze Morali sono deceduti i soci nazionali non residenti Giovanni Conso, già ordinario di Procedura Penale all'Università di Torino, presidente merito della Corte Costituzionale e Sergio Donadoni, professore merito, già ordinario di Egistologia nella Sapienza. Anche Donadoni è morto il 31 ottobre all'età di 101 anni, ma l'abbiamo ancora avuto qui in aprile, come ricorderò fra poco. I soci stranieri Jacques Fontaine, professore merito, già ordinario di lingua e letteratura latina alla Sorbonne e Gilbert D'Agron, professore onorario di storia e civiltà del mondo bizantino nel Collège de France. I soci corrispondenti Louis Terreau, professore merito, già ordinario di lettere all'Università della Savoia a Chambery, Bruno Chiesa, ordinario di lingua e letteratura ebraica nell'Università di Torino, Silvio Curto, già professore associato di Egittologia nell'Università di Torino e già sovrintendente per l'Antichità Egizia. A tutti loro va il nostro commosso ricordo che ci proponiamo di rinnovare nelle occasioni commemorative che verranno organizzate. A fronte di queste perdite sta l'ingresso di nuovi soci che vengono ad arricchire anche quest'anno la nostra Accademia, fra poco li conoscerete quando consegnerò il diploma. Nella classe di Scienze Fisiche sono stati eletti i soci nazionali residenti Daniele Castelli e Cristiana Peroni e il socio nazionale non residente Massimo Inguscio, mentre nella classe di Scienze Morali sono stati eletti i soci nazionali residenti a Imaro Oreglia d'Isola e non residenti Luigi Capogrossi Colognisi. Tre sono i nuovi soci stranieri, nella classe di Scienze Fisiche Yuri Engelbrecht e in quella di Scienze Morali Carlo Salvar e Jürgen Osterhammel. Undici sono infine i nuovi soci corrispondenti. Per la classe di Scienze Fisiche Paolo Valabrega nella sezione Scienze Matematiche, Alberto Bardelli nella sezione Scienze del Biologia Animale dell'Uomo, Nadia Pastrone nella sezione Scienze Fisiche, Guido Saracco nella sezione Scienze Chimiche, Rodolfo Carosi nella sezione Scienze della Terra. Per la classe di Scienze Morali Eugenio Lacaldano nella sezione Filosofia, Paolo Montalenti nella sezione Scienze Giuridiche, Enrico Filippi nella sezione Scienze Economiche, Politiche e Sociali. Michela Di Macco nella sezione Storia e Critica delle Arti, Pierluigi Donini nella sezione Filologia, Linguistica e Lettrutture Classiche Orientali e Maria Teresa Giaveri nella sezione Filologia, Linguistica e Letterature Medievale Moderne. A tutti loro rivolgo il più cordiale benvenuto nella fiducia che potranno e vorranno dare un valido contributo al lavoro e all'iniziativa dell'Accademia. Mi è particolarmente gradito menzionare il principale riconoscimento ottenuti da nostri soci nello scorso anno accademico. Giovanni Bignami e Giacomo Rizzolatti sono stati eletti socio nazionali dell'Accademia Nazionale dei Lincei per la classe di Scienze Fisiche, Giuseppe Cambiano, Ettore Casare e Giorgio Pestelli per la classe di Scienze Morali, Paolo Roberto Federici è stato rieletto Presidente della Società Toscana di Scienze Naturali, Giorgio Pestelli è stato anche eletto socio corrispondente dell'Istituto Veneto, Massimo Inguscio dell'Accademia della Colombaria di Firenze, Telmo Pievani dell'Accademia Olimpica di Vicenza e chi vi parla dell'Accademia Pontagnana di Napoli. Inoltre Andreina Grisieri è stata letta socio onorario dell'Arcadia, Maria Luisa D'Oglio è diventata socio dell'Accademia Ambrosiana di Milano e Arnaldo Di Benedetto del Centro Studi Moderatoriani di Modena. Massimo Inguscio è stato nominato Cavaliere dell'Ordine della Regione d'Onore, mentre Claudio Magris è stata conferita la Gran Croce con Stella dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania. Michela Di Macco è stata letta Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per le Belle Arci del Ministero dei Beni e le Attività Culturali. Edoardo Soltarolo, membro della Giunta Centrale per gli Studi Storici, mentre Luigi Rodino è stato rieletto da Presidente dell'International Society for Analysis, Its Implication and Computation. E Marco Filippi è diventato socio onorario dell'Associazione della Fisica Tecnica Italiana. Infine a Gastone Cottino è stato attribuito il sigillo civico della città di Torino destinato agli ex partigiani. A questi ricorgimenti si aggiungono numerosi premi. Salvatore Settis ha ricevuto il premio SILA 2014 e Giuseppe Galasso il premio Acqua e Storia, entrambi alla carriera. Ad Aymaro Reglio d'Isola è stata assegnata la Targa d'Oro 2015 dell'Unione Italiana del Disegno. A Roberto Compagnoni la medaglia Plinus 2015 per l'attività di ricerca nel campo della petrologia. A Telmo Pivani il premio internazionale di ecologia umana. A Bice Mortari Garavelli il premio Alda Croce del Centro Pannunzio. Fra i premi stranieri occorre menzionare la Centennial Einstein Medal, assegnazza Stanley Deiser. Inoltre Marco Filippi ha ricevuto il Professional Award in Science della Federation of European Heat and Ventilation and Air Conditioning Associations. Paolo Montuschi il Distinguished Service Award dell'IEE Computer Society. Giuseppe Poli lo Health Science Prize and Medal dell'Oxygen Club of California. E Gabriele Lolli il premio e libro universitario per il miglior libro straniero tradotto in russo. E veniamo alle molteplici attività dello scorso anno accademico. Anche quest'anno le duranze mensili delle classi si è affiancato da gennaio a maggio il tradizionale ciclo dei mercoledì dell'Accademia, con le conferenze tenute dai soci Marco Andreatta, Fabrizio Pennacchietti, Paolo Vinese, Edoardo Tortarolo, Enrico Predatti, Salvatore Veca, Luigi Cattel, Gian Savino Penividari, Sandro Pignatti e Aldo Ruffinatto. Ad essi si sono aggiunti due altri cicli di incontri su argomenti specifici. Il primo, legato all'iniziativa Torino incontro a Berlino, ha avuto per oggetto gli scintiati tedeschi dell'Otto-Novecento, che sono stati i soci della nostra Accademia. Inaugurato in gennaio con l'incontro dedicato a Alexander von Humboldt, a cura di Pietro Rossi e di Massimo Livi Bacci, esso è proseguito con la presentazione di figure di Karl Friedrich Gauss, il bel conto è tutto scritto, Friedrich Karl von Savigny, Mario Lozano, Justus von Liebig, Hermann Obarni, August Böcce, Gianfranco Gianotti, Hermann Ludwig von Helmholtz, Davide Lovisolo, Karl Richard Lepsius, Alessandro Roccati, Max Planck, Enrico Predazzi, Theodor Momsen, Luigi Capogrossi Colognesi, David Hilbert, Gabriele Lolli, Werner Jäger, Giuseppe Cambiano, Max von Laue, Giovanni Ferraris e Rudolf Wittcover, Giovanni Romano. Il secondo ciclo, dal titolo Pensare alla guerra, è stato dedicato in occasione del centenario della grande guerra all'illustrazione della posizione degli intellettuali italiani di fronte al conflitto. Alessandra Tarquini ha parlato di Benedetto Croce, Guido Lucchini di Carlo Emilio Gadda, Massimo Salvadori di Gadettano Salvemini, Carlo Ossola di Giuseppe Ungaretti, Franco Sbarberi di Antonio Gramsci, Arnaldo di Benedetto di Emilio Russo, Emilio Gentile di Giuseppe Pretorini e Pier Giorgio Zunino di Benito Mussolini. Numerosi e di diversi argomenti sono stati poi i convegni organizzati dell'Accademia, spesso in collaborazione con altre istituzioni culturali. Nel solco degli incontri dedicati al ricordo e alla ricostruzione della vita intellettuale piemontese e del contributo della nostra Accademia al suo sviluppo, si colloca il convegno su Tommaso Valperga di Caluso e la cultura Sabauda fra 7 e 800, tenuto il 14 maggio con relazioni di Vincenzo Ferrone, Paolo Buffo, Emiliano Contini, Laura Tossa, Annaldo di Benedetto, Massimo Mori, Franco Pastrone, Attilio Ferrari, Fabrizio Fennacchietti, Gian Mario Cattane e Gianfranco Gianotti, sotto la presidenza di Giuseppe Recuperati e Vincenzo Ferrone. Altri incontri sono stati dedicati al ricordo dei personaggi e dei venti importanti della storia italiana ed europea. Il 27 e 28 novembre 2014 l'Accademia organizzato insieme alla Fondazione Inaudia e la Fondazione Firpo, il convegno internazionale in occasione del 250esimo anniversario della pubblicazione dello scritto Dei delizi e delle pene di Cesare Beccaria. Le relazioni sono stati tenuti da Giuseppe Recuperati, Filippo Dejan, Carlo Capra, Sara Bersezio, Adriano Prospri, Pietro Costa, Renato Pasta, Michel Porré e Elisabeth Salvi, Franco Motta. Mentre la seduta conclusiva ha ospitato l'aleccio magistrale di Luigi Ferraioli e una tavola rotonda con la partecipazione di Pietro Buffa, Giancarlo Caselli, Guido Neppi Modona, Laura Scomparin, Vladimiro Zagrebeschi e le conclusioni di Antonio Rossomando. Risalendo indietro nel corso dei secoli, il 15 giugno Giuseppe Sergi, Antonio Padova Schioppa e Massimo Salvadori hanno ricordato la Magna Carta e il suo re a 800 anni dal primo fondamento delle libertà costituzionali. E ancora il 9 ottobre Gianluigi Beccaria, Carlo Ossolo e Lino Pertile hanno parlato di Dante Alighieri a 750 anni dalla nascita. Altri incontri hanno rivestito un carattere più spiccatamente disciplinare o interdisciplinare. Il 17 maggio ha avuto luogo il convegno dedicato al futuro delle Alpi per corsi di ricerca organizzato insieme all'Associazione Gislivelli e nell'ambito del programma Torino e le Alpi della Compagnia di San Paolo. Dopo gli interventi produttivi di Giuseppe De Matteis, Federico Corrado e Luca Remmer, le relazioni sono state tenute da Pierpaolo Viazzo, Antonio De Rossi, Roberto Gambino, Mauro Varotto, Enrico Capani e Claude Roffestain. A esso ha fatto seguito il 10 aprile il convegno dedicato al giurista Giuvenzio Seicelso, organizzato in collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e il Circolo Torinese di diritto romano. Le relazioni sono state tenute da Massimo Miglietta, Francesco Quena Boi, Luigi Garofalo, Cosimo Cascione, Antonio Palma, Gastone Cottino, Leglio Lantella sotto la presidenza di Filippo Carlo Gallo e di Fausto Goria. Il 29 maggio si è tenuto l'incontro su Epigenetica ed Evoluzione, localizzato in collaborazione con la Human Genetic Foundation e dedicata alla memoria di Aldo Fagiolo, con relazioni di Salvatore Oliviero, Giuseppe Macino, Barbara Continenza, Carmela Morabito, Mark Hanson, Paolo Vines, Luca Chiapperino, sotto la presidenza di Alberto Piazza e Amalia Bosia. Il 13 ottobre si è tenuto un convegno dedicato a George Bull, dalla Mathematical Analysis of Logical a Computer Science, con la partecipazione di Umberto Bottazzini, Massimo Mugnai, Gabriele Lolli, Simona Ronchi della Rocca, oltre a chi vi parla. Infine, il 21 ottobre si è tenuto in occasione dell'anno internazionale della luce un incontro su luce e cultura, organizzato in collaborazione con l'INRIM e aperto dalla lezione magistrale di Sir Michael Burry, cui hanno fatto seguito gli interventi di Giovanni Bignami, Elio Giamello, Adriano Zecchino, Massimo Inguscio, Davide Lovisolo, Giovanni Ferraresi e Giovanni Filoramo. Sono poi proseguiti, anzi si sono rafforzati, i rapporti di collaborazione con altre istituzioni culturali, in primo luogo con i due atenei torinesi e con l'Università del Piemonte Orientale, con l'Accademia di Agricoltura e con l'Accademia di Medicina di Torino, nonché con l'Accademia Nazionale del Lincei, con l'Istituto Lombardo e con l'Istituto Veneto, molti dei cui soci hanno preso parte alle nostre iniziative. In particolare, il 12 dicembre si è tenuta la consueta seduta congiunta delle tre accademie e torinesi, dedicata al tema cibo e cultura, con relazioni di Gianfranco Gianotti, Carlo Lavecchi e Sergio Lanteri. Mentre il 16-17 aprile la nostra Accademia ha ospitato in seduta congiunta l'Accademia Nazionale del Lincei, organizzando un incontro sul tema l'Antico Egitto e i suoi contesti, preseduto dal compianto socio Sergio De Nadone, che aveva avuto il piacere di avere qui, aveva già compiuto 100 anni, ma ha preseduto il convegno con grande lucidità e competenza, come sempre, con relazioni di Mario Liverani, Manfred Bita, che è da Presciani e Alessandro Roccati, nonché la commemorazione ai 150 anni della nascita di Guido Castelnuovo, tenuta da Maurizio Cornalba, seguita dall'Alecchio Brevis del socio Giorgio Pestelli, sul tema l'esotismo nella Ida di Verdi. A questi rapporti si è aggiunta nello scorso anno la collaborazione con l'ALEA, European Federation of Academies of Sciences and Humanities, della quale l'Accademia delle Scienze di Torino è attraverso a far parte insieme con altre due accademie italiane, l'Accademia Nazionale di Incele e l'Istituto Veneto, partecipando tra l'altro al programma Facing the Future, European Research Infrastructure for Humanities and Social Sciences. In questo quadro è da segnalare la pubblicazione del volume The Boundaries of Europe, a cura del socio Pietro Rossi, e con la partecipazione di due altri nostri consoci, John Heliot e Massimo Salvadori, che ha inaugurato la collana ALEA dei Discourses on Intellectual Europe, pubblicati dall'editore De Groot. Si sono tenute inoltre diverse conferenze. Il 5 novembre la lettura Martinetti, organizzata con la Fondazione Case Archivio Piero Martinetti Onlus e la Fondazione Piero Martinetti, nel corso della quale Vladimir Zagrebelsky ha trattato il tema legge, processo del suo giudice nella visione di Cesare Beccaria, cosa resta dopo due secoli e metto. L'11 dicembre si è tenuta l'ormai tradizionale conferenza pubblica, dedicata a illustrare sinteticamente i profili scientifico-culturali dei premi Nobel, del premio Abel per la matematica, delle medaglie Fields per la matematica del 2014. Il 15 maggio la conferenza del socio straniero Jan Asman sul tema Ramessi the Theology and Displacing the History of Religion. Il 18 maggio quella del socio straniero Yuri Engelbrecht on Mathematical Modelling of Dynamical Processing and Biological Systems. Il 30 settembre la conferenza di Luisa De Cola, Universitetto di Strasbourg, sul tema materiali ibridi e dolci in collaborazione col Dipartimento di Chimica dell'Università Studi di Torino. Il materiale dolce scelto dalla professoressa De Cola è stato il cioccolato, come vedete, e la conferenza è stata seguita appunto da una degustazione di cioccolato avvenuta seguendo le istruzioni della professoressa De Cola per gustarlo al meglio. Se volete poi iniziamo anche come si fa. Infine, il 12 ottobre, la lezione magistrale di Alain Aspecti in collaborazione con Liri sul tema From the Einstein Board Debate to Bell's Inequalities Test, Precision Measurement Settle e Conceptual Debate. Il 22 gennaio è stato commemorato Emilio Gabba con interventi di Elia Cracorugini, Umberto Laffi e Giancarlo Mazzoli, Presidente Giuseppe Ricuperati. Il 24 maggio si è tenuta una giornata di studio su Franco Venturi in occasione del centenario della nascita e del ventesimo anniversario della morte, alla quale sono intervenuti il figlio Antonello, Edoardo Tortarolo, Alberto Masoero, Giuseppe Ricuperati, Adriano Viarengo e Giuseppe Galasso. Alla ripresa autunnale si è tenuto il 25 settembre un convegno in memoria di Lionello Sozzi, organizzato insieme alla rivista Studi Francesi, al quale hanno preso parte Mario Richter, Dario Cecchetti, Fran Lestrengan, Rossana Gorris Camos, Michel Delon, Paolo Tortonese, Franco Marenco e Giorgio Pestelli. Infine il 27 ottobre Pietro Rossi e Carlo Augusto Viano hanno rievocato 25 anni dalla morte la figura e l'opera di Nicola Bagnano in un incontro organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino. Tre distinti incontri sono stati poi dedicati ai soci nazionali in occasione del loro novantesimo compleanno. Il 25 novembre Giorgio Barbari Squarotti, Giovanni Filoromo, Clementina Mazzucco hanno celebrato Eugenio Corsini, Presidente Gianluigi Biaccaria. Il 5 dicembre Paolo Garbarino, Fausto Goria, Luigi Labruno e Lelio Lantella hanno parlato di Filippo Carlo Gallo, Presidente Gian Savino Penevidari. Mentre il 16 ottobre Marco Nado, Antonio Padova Schioppa, Giuseppe Zanaroni hanno reso maggio a Gastone Cottino, Presidenza Renzo Costi. Come ogni anno sono stati presentati nuovi volumi, Le stelle, le strisce, la democrazia, Tocchevilla veramente capitolo America, Donzelli 2014 del socio Massimo Salvadori in collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi a Onlus, 4 dicembre, mentre prendendo spunto dal volume Eva Selle e la sua scuola di Piera Vaglio Giorgio, Fondazione Sella 2013, l'Accademia delle Sciente e la Fondazione Sella Onlus hanno organizzato un incontro sul tema l'istituzione femminile nell'Italia dell'Ottocento, Aspetti e Figure, un caso di studio, la scuola superiore femminile Eva Sella a Vella, 20 maggio. Si sono infine rafforzati i rapporti con istituzioni torrinesi, nazionali e internazionali al fine di perseguire obiettivi comuni in diversi settori. Nel marzo 2015 l'Accademia ha firmato un accordo di partenariato con la Compagnia di San Paolo, l'Associazione Apri di Cielo, il Centro Interuniversitario Agora Sciente, l'Associazione Centro Scienza Onlus, il Consortio Perché 013 e l'Associazione Subalpina Matesis, allo scopo di favorire la diffusione della cultura scientifica. Obiettivo principale dell'accordo è quello di creare un sistema Scienza Piemonte dedicato alla divulgazione scientifica che traduisca allo sviluppo e rafforzi la capacità del territorio di attuare strategie efficaci nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica di alto livello. Il Sistema Scienza Piemonte debutterà il 16 novembre qui con una giornata di studio dedicata al centenario della relatività generale di Einstein e ci sarà anche una mostra di prezioni simili eistaniani che abbiamo avuto dagli Einstein Archives della casa editrice Bollati Boringhieri che è quella che ha pubblicato le opere di Einstein in italiano. Per investire nella promozione e diffusione del proprio patrimonio archivistico librario l'Accademia ha proseguito con la creazione di percorsi espositivi. È stata visitabile fino a giugno nelle sale del Piano Nobile la mostra su Bernardino Trovetti, dall'avventura alla scienza, con pregevoli volumi d'epoca e documenti riferiti alle vicende drovettiane e alle missioni scientifiche del tempo che fecero scoprire l'Europa l'antico Egitto. Le celebrazioni per l'Ada Day del 16 ottobre ultimo scorso sono state inoltre l'occasione per inaugurare una mostra documentaria sulle carte che il matematico inventore Charles Babbage lasciò all'Accademia nel 1840 in occasione della sua partecipazione al secondo congresso degli scienziati italiani. È ancora presente nelle bacheche qui in sala ci sono queste preziosissime carte di Babbage che come sapete è l'antesignano del computer perché la sua macchina analitica è considerata appunto il primo esempio di computer. Abbiamo noi qui le carte originali comprese alcuni esempi di schede perforate che sono i primi conosciuti al mondo. Si è poi rafforzata la collaborazione con diverse realtà nel campo della didattica e della formazione che è progressivamente diventando un settore sul quale l'Accademia delle Scienze sta avvettendo sempre più risorse economiche e umane. A riprova di questo a settembre 2015 è entrata a far parte del stabilimento dell'organico una persona per il supporto al coordinamento dell'attività didattica. Sono proseguite e proseguiranno nel corso del 2016 l'attività organizzata all'interno del progetto LS OSA siglato nel settembre 2013 con l'agilazione generale per gli ordinamenti scolastici e la votazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, il Dipartimento di Scienza dell'Università di Roma III e il Liceo Galilei di Verona allo scopo di promuovere e potenziare la didattica laboratoriale nei nuovi licei scientifici con opzioni scienze applicate. Nel corso dell'anno scolastico 2014-2015 si è avviato un'azione di tutoraggio dei nuovi docenti di tutte le scuole nazionali da parte dei docenti delle scuole Polo per un'integrazione più efficace delle diverse discipline e si sono tenuti in tutte le regioni d'Italia i laboratori itineranti. Non approfitto per salutare la professoressa Brancaccio che è qui con noi, rappresentante della direzione generale degli ordinamenti scolastici, la ringrazio per il costante sostegno dato alle nostre attività, la prego di estendere questo ringraziamento addosso a Teresa Palumbo, direttore generale appunto per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR. Il MIUR ha inoltre approvato l'accordo di programma STI-TREMA, Scienza, Tecnologia e Informatica in Presa Internazionale, nuovi modelli di apprendimento del quale l'Accademia è parte, destinata all'avviluppo e alla ricerca dell'esperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie. Sono proseguite inoltre le attività organizzate all'interno del progetto nazionale ILINCEI per una nuova didattica dell'istruzione, una rete nazionale, che si propone di favorire il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione nazionali, dando vita a una rete nazionale di accademie che imposte una rinnovata metodologia di insegnamento delle materie scientifiche e delle conoscenze linguistiche e concettuali. Il progetto ha portato nel 2015 alla nascita della fondazione dei lincei per la scuola, il cui Presidente onorario è l'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a quale rivolgo un deferente, saluto e un ringraziamento per il suo costante interesse e sostegno all'attività della nostra Accademia. I progetti didattici, attivati dal Polo di Torino grazie al contributo dei soci di Accademia delle Scienze del corso dell'anno scolastico 2014-15, sono stati nell'ambito della matematica il progetto Matinfo 2.0, la matematica e l'informatica generale occupazione, il progetto osservare, argomentare, calcolare e dimostrare, professori Arzarello e Pastrone. Nell'ambito delle Scienze Naturali il progetto Nazionale Scienze, mi inquirendo Discere, il sottoscritto ma come prosecutore dell'opera del compianto socio Aldo Fasolo, improvvisamente scomparso, e nell'ambito dell'italiano il progetto leggere, capire, interpretare il nostro socio Beccaria. Per il secondo anno l'Accademia è stata parte nel progetto di Derot della fondazione CRT destinato agli studenti di Piemonte le Valle d'Aosta, l'Accademia ha attivato due linee d'azione, la prima dedicata a professori e studenti del Biegno delle scuole secondarie, denominata Matetreni, e la seconda rivolta agli studenti del Triennio, denominata Matematica all'ennesima potenza. Sembra nell'ambito dello stesso progetto continua la collaborazione dell'Accademia delle Scienze e con i Dipartimenti di Matematica dell'Università e del Politecnico di Torino all'interno del progetto Alfa Classe. Prosegue infine la realizzazione di progetti didattici formativi dedicati alle scuole primarie e secondarie in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali e la realizzazione di attività didattiche proprie, percorsi didattici per le scuole legate a figure di rilievo nella storia della scienza, corsi di formazione a profondamento per gli insegnanti e a partire dall'anno scolastico 2014-2015 il progetto Valorizzare l'Italiano legato alle attività della biblioteca. Nell'ambito delle attività didattiche organizzate, oltre 1.500 studenti hanno visitato l'Accademia, eseguite laboratori didattici organizzati in collaborazione col Museo Regionale di Scienze Naturali. Si sono inoltre tenute con cadenza mensile diverse visite guidate alle salle storiche dell'Accademia che hanno coinvolto oltre 700 persone. In ambito europeo è stato avviato il progetto biennale Science and Mathematics Advanced Research for Good Teaching, SMART, ammesso un finanziamento nell'ambito del progetto Erasmus Plus della Commissione Europea, al quale la nostra Accademia ha partecipato insieme con l'Istituto Carlo Antti di Verona, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la Voltazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR, l'Università di Torino, la Tecnische Universitäti Delft, Olanda, l'Università degli Studi Roma III, il St. Thomas Gymnasium di Kammeltal, Germania, la Chalmers University of Technology di Göteborg, Svezia e l'Ungheria Radnoti School Ungherese. Scopo del progetto è quello di sviluppare iniziative che promuovono l'innovazione e lo scambio di esperienze e di buone pratiche fra differenti tipi di organizzazioni relativamente alla didattica e disciplina delle aree matematica, scientifica e tecnologica, con riferimento sia alle meteorologie sia agli strumenti e con una particolare attenzione al collegamento fra la scuola superiore, l'università e il mondo del lavoro. E qui con noi il professor Claudio Pardini, che è il dirigente dell'Istituto Antti di Verona che coordina questo progetto, lo saluto e lo ringrazio per costante aiuto e sostegno dato a questa attività per quello che riguarda la nostra Accademia. Nel corso dell'anno accademico appena concluso si sono stati pubblicati, oltre all'annuario relativo al 232esimo anno accademico, l'opuscolo ad annunanza inaugurale del nuovo anno, i volumi 148 degli atti della classe di scienze fisiche e il volume 148 degli atti della classe di scienze morali, il volume 38-39 delle memorie della classe di scienze fisiche, il terzo fascicolo del volume 37 e il volume 38 in tre fascicoli monografici delle memorie della classe di scienze morali, nonché due quaderni, i numeri 20 e il numero 22, entrambi a cura di Luigi Bonanate, rispettivamente dedicati a Nuto Revelli, Eric John Hobsbawm e ancora un quaderno, il 21, dal titolo Impacto Cristallography on Modern Science a cura di Giovanni Ferrari. Sono inoltre di prossima pubblicazione, sempre nella collana dei quaderni, in volumi omaggio Giovanni Plana a cura del sottoscritto, Verdi e letteratura europea a cura di Giorgio Pestelli e a tre volumi dedicati agli incontri di studio per i 90 anni dei soci Eugenio Corsini, Gastone Cottino e Filippo Carlo Gallo. Nella collana dei libri dell'Accademia uscirà entro pochi mesi poi il volume sulle relazioni accademiche tenute da Medeo Avogadro nella prima età dell'Ottocento, nella prima età dell'Ottocento in merito ai privilegi e brevetti gestiti per oltre 70 anni da questa Accademia. Con l'editore Il Molino è appena uscito il volume Un Piemontese in Europa, Carlo De Nina, 1631-1831 a cura di Giuseppe Recuperati e delle Laborci, Molino 2015. Ed è in preparazione il prossimo che sarebbe dedicato a Tommaso Valperga di Calugio e a Cultura Sabauda fra 7-800. Per quello che riguarda la biblioteca e l'archivio storico mi è gradito comunicare che sono state acquisite, state donate, sia la biblioteca del professor Carlo Pischetta, sia l'archivio del centro studi metodologici, il professore compiato, il professor Luciano Gallino, ne faceva parte come il professor Rossi e il professor Viano e insieme hanno deliberato di donare l'Accademia all'importantissimo archivio di questa importante iniziativa degli anni 50-60 qui a Torino. Il progetto di schedatura informatizzata condotto l'intesa con la sovrintendente archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta è finanziato con un contributo 8 per 1000, ha portato la completa informatizzazione del prezioso fondo di documenti e manoscritti dell'archivio e si sta ora ultimando il condizionamento conservativo di tutta l'imponente documentazione cartacea, accumulata nel corso degli oltre due secoli di attività dell'Accademia. E' continuato inoltre il progetto speciale di durata triennale di valorizzazione dell'archivio storico, sostenuto ancora una volta con il supporto della Compagnia di San Paolo, volto ad approfondire tre diversi filoni di ricerca, la corrispondente fra Vittorio Cian e Carlo Dionisotti, le relazioni accademiche che a Medea Avogadro ridasse durante la sua attività di membro delle commissioni che avevano il comodo di seguire l'Italia dei privilegi industriali e un volume di valorizzazione complessiva dell'archivio storico dell'Accademia. E' inoltre recentemente ripreso il progetto della Compagnia di San Paolo del Comune di Torino, reciproca solidarietà e lavoro accessorio, che porterà all'acquisizione nei prossimi mesi di oltre 100.000 immagini digitali. Il progetto, nato per sostenere il reddito di persone colpite dalla crisi economica, aiuterà quattro persone a reinserirsi nel mondo del lavoro e produrrà per l'Accademia un ulteriore strumento di diffusione del proprio patrimonio. Dopo l'estate si è infine avviata, grazie ancora al contributo della Compagnia di San Paolo, la quarta fase di lavori che hanno interessato la sede dell'Accademia negli ultimi anni. Il progetto di riqualificazione, vedete lì la piantina, interesserà ora il recupero di pregiati locali del piano terreno, che ospitano anche la cappella guarignana del Collegio dei Nobili, con il restauro degli intonchi antichi e la relativa rifunzionalizzazione. Il progetto, che si concluderà nella fine del 2016, potrà avere ricadute dirette in termini di crescita dell'offerta culturale e accademica di alto livello, perché permetterà di avere nuovi locali al piano terreno facilmente accessibili al pubblico e destinati a un uso flessibile da sala conferenze a spazio espositivo temporaneo. Più di recente, la Compagnia ha concesso un ulteriore contributo di 100.000 euro per l'assistimazione dell'ammezzato del primo piano, che consenterà l'espansione della biblioteca in vista dell'acquisizione di un nuovo fondo librario. Possiamo quindi guardare con soddisfazione il risultato di un'intensa plurinale stagione di lavori, impostata con coraggiosa e profetica lungimiranza dal mio predecessore, professor Pietro Rossi, al quale desidero esprimere ancora una volta pubblicamente la più profonda riconoscenza di tutta la nostra Accademia e che si proponeva di restituire questo palazzo, l'antico Collegio dei Nobili, patrimonio prezioso che è poco conosciuto nella nostra città, al suo originario splendore. Rimangono così ancora da realizzare soltanto il recupero dei locali sottostanti alla specola distrutta nel corso dell'ultima guerra, una bomba, e impresa che riguarda però l'intero palazzo e che travalica nei nostri principi competenti la pulitura e il restauro delle facciate esterna e interna. Sono fiducioso che ancora una volta la compagnia vorrà sostenersi nei nostri sforzi, consentendoci di completare il piano di diritto di cui avevamo formulato le Ligie Generali di Dieci Anni Orsono nel lontano 2003. E colgo l'occasione per rinnovare l'espressione della nostra più viva gratitudine al Presidente in carica di compagnia Luca Remmer, al Vice Presidente Mezzalama, alla dottoressa Ciliano che è riportabile del settore beni culturali, nonché ai suoi predecessori l'Avvocato Franzo Grande Stives, l'Avvocato Angelo Benensia, il Dottor Sergio Camparino, nonché al Segretario Generale Dottor Castaldo e all'area del patrimonio storico-artizio che ci hanno generosamente accompagnati in questo lungo cammino. Mi auguro anche che questa possa essere l'occasione per un rinnovato sostegno della nostra Accademia da parte dello Stato e degli enti locali che, come già lamentava il mio predecessore, a partire dal 2009, anche a causa della crisi economica, sono stati indotti a ridurre progressivamente il loro sostegno finanziario, quasi ritirandosi al di là delle dichiarazioni di facciata dal terreno della politica culturale. Le istituzioni, come la nostra Accademia, svolgono un ruolo insosistibile di conservazione e valorizzazione di un patrimonio archivistico e librario di valori inestimabili, nonché di promozione e diffusione di quella cultura scientifica e umanistica che tutti riconoscono essere la chiave di volta per la ripresa economica e competitiva del nostro Paese. Sono sicuro che i primi incoraggianti sintomi di ripresa che si cominciano a intravedere dopo la gravissima e troppo lunga crisi economica, possono dare spazio a quella politica lungimirante che sa che soltanto gli investimenti nelle istituzioni culturali e scientifici di eccellenza sono la migliore garantia di progresso e di benessere per le future generazioni. Vediamo la consegna dei diplomi ai nuovi soci, che prego man mano clicchiamo di venire qui per ricevere il diploma. Allora, nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, soci nazionali residenti, il professor Daniele Castelli, ordinario di petrologia e petrografia nell'Università di Torino. Ecco il diploma, adesso guarda là, che ci fanno la foto. Grazie signora. Sempre per i soci nazionali residenti, la professoressa Cristiana Peroni, ordinario di fisica nell'Università di Torino. Cristiana, ecco il diploma, adesso vieni qui, no, da questa parte. Classe di scienze fisiche, soci nazionali residenti, il professor Massimo Inguscio, già più volte citato, ordinario di fisica materia nell'Università di Firenze e direttore dell'INRIM qui a Torino. Grazie a te Massimo, ecco il tuo diploma, vieni qui, dammi la mano, grazie. Nella classe di scienze morali, storiche e filologiche, soci nazionali residenti, professora Imaro Oreglia Disola, emerito di compositore architettono di progettazione urbana del Politecnico di Torino. Ecco il diploma. Tra l'altro il professor Isola è colui che ha realizzato il nuovo allestimento del museo egizio, quindi qui sei di casa per due motivi. Complimenti ancora, grazie. Sempre per i soci nazionali, ma questa volta non residenti, la classe di scienze morali, il professor Luigi Capogropsi Colognesi, emerito di diritto romano all'Università di Roma, la Sapienza. Complimenti, ecco il diploma, dammi la mano, ci siamo fatti una bella foto. Grazie. 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 Socii stranieri, nella classe di scienze fisiche e matematiche naturali, il professor Yuri Engelbrecht, professor and head del Center for Non-Linear Studies Institute of Cyberness dell'Università di Tallinn, Estonia. Congratulazione. Congratulazione. Great pleasure. È un po' che è un piacere. Ecco il diploma, adesso ci diamo di nuovo la mano. Dammi ancora la mano. Ecco, facciamo ancora una foto mentre ci diamo. Grazie. Grazie. Soci stranieri, nella classe di scienze morali, storiche e filologiche, il professor Carlos Alvar, ordinario di filologia, romanzo e letteratura spagnola medievale nell'Università di Ginevra e Alcalá. Congratulazioni. Ecco il diploma. La mano. La mano. Sempre nella stessa classe, purtroppo non è presente, non è potuto essere presente, ma gli consegneremo poi il diploma, però lo cito, il professor Jürgen Osterhammel, ordinario di storia moderna e contemporanea nell'Università di Costanza. Soci corrispondenti, classe di scienze fisiche e matematiche naturali, per le scienze matematiche, il professor Valabrega, già ordinario di geometria nel Politecchio di Torino. Congratulazioni. Diploma. Mano per la foto. Fa un particolare piacere perché il professor Valabrega è stato mio allievo e poi anche... e poi anche il mio collega nella stessa disciplina, io all'Università e lui al Politecchio di Torino. Ancora congratulazioni. Per le scienze della biologia animale dell'uomo, il professor Aldo Bardelli, Alberto Bardelli, scusate, associato di istologia nell'Università di Torino. Congratulazioni. Ecco il diplomat. Grazie ancora, grazie. Per le scienze fisiche, la professoressa Nadia Pastrone, dirigente di ricerca dell'INFN di Torino. Congratulazioni. Ecco il diploma. Grazie. Per le scienze chimiche, il professor Guido Saracco, ordinario di fondamenti chimici e tecnologie nel Politecchio di Torino. Grazie. 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 Congratulazioni vivissime. Ecco, il diploma. Grazie. Per le scienze della terra, il professor Rodolfo Carosi, ordinario di geologia strutturale dell'Università di Torino. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Per la classe di scienze morali, storiche e filologiche, soci corrispondenti. Per la filosofia, il professor Eugenio Lecaldano, emerito di filosofia morale dell'Università di Roma, la Sapienza. Per le scienze giuridiche, il professor Paolo Montalenti, ordinario di diritto commerciale dell'Università di Torino. Per le scienze economiche, politiche e sociali, il professor Enrico Filippi, già ordinario di economia aziendale dell'Università di Torino. Per la storia e critica delle arti, la professoressa Michela Di Macco, ordinario di storia dell'arte moderna, l'Università di Roma, la Sapienza. Per la filologia linguistica e letterature classiche orientali, il professor Pierluigi Donini, già ordinario di storia della filosofia antica dell'Università di Milano. Grazie. Applausi. Congratulazioni ancora. Ecco il diploma. Mettiamoci la mano, guardate là che ci fanno la foto. Grazie. Grazie a voi. Per la filologia linguistica e le tratture medievale moderne, la professoressa Maria Teresa Giaveri, ordinario fuori ruolo di letteratura comparata nella Università di Torino. Ciao, congratulazioni. Grazie. Grazie mille. Facciamo una fotografia. Ecco, abbiamo terminato la consegna dei diplomi di noi soci, adesso consegniamo i diplomi ai vincitori dei premi banditi dell'Accademia nello scorso anno accademico. Il premio internazionale Ferrari Soave per la biologia umana è stato attribuito al professor Alberto Mantovani. Il professor Mantovani è professore ordinario di patologia generale presso la Humanitas University, direttore scientifico di Humanitas da ottobre 2005. è presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca, che sostiene la ricerca clinica di base in ambito immunologico e le sue applicazioni per la cura delle malattie infiammatorie croniche e autoimmuni, oncologiche, gastroenterologiche, cardiovascolari e neurologiche. Prego il professor Pastrone, direttore della classe di scienze fisiche, di leggere la motivazione dell'assegnazione redatta dalla commissione giudicatrice del premio. Il professor Alberto Mantovani è uno scienziato di fama internazionale nel campo della immunologia dei tumori, alla quale ha portato importanti contributi con la scoperta di nuove molecole. Tra i principali risultati ottenuti dal professor Mantovani risulta rilevante la dimostrazione che, in caso di progressione neoplastica, il macrofago va incontro alla modificazione del fenotipo, tali da sostituire all'iniziale effetto pro-infiammatorio un'azione anti-infiammatoria e pro-angiogenica. Sono inoltre degni della massima considerazione i lavori del professor Mantovani nel campo dell'immunità umorale innata, con la caratterizzazione della moletocola pentraxina-3-PT-Extrae. La commissione appressa la rilevanza dei risultati ottenuti nell'ultimo decennio, frutto di un'attività scientifica continuativa e innovativa. Questo dai verbali. Ancora congratulazioni e complimenti. Ah, scusa, scusa, scusa. Eh, no, eh, 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 allora rifacciamo, ripartiamo. Ripartiamo la forza. Certo. Grazie ancora. Adesso il premio internazionale Gile Agostinelle per la meccanica applicata al professor Daniel Rittel. Allora, il professor Daniel Rittel insegna meccanica sperimentale presso il Technion Israel Institute of Technology. A head of the Materials Mechanics Center e deputy senior vice president nella stessa università. Prego, professor Pastolani. Ah, no, sorry, I told you before I'm going to read it in Italian, but he knows Italian because he spent some part of his life in Torino, is true? Yeah. Il professor Rittel è un'autorità internazionalmente riconosciuta nel campo dei cedimenti dinamici in meccanica strutturale. Autore di oltre 140 pubblicazioni su riviste internazionali, ha sviluppato ricerche pioneristiche nella meccanica dei materiali, con particolare attenzione all'accoppiamento termomeccanico nei solidi. Alcuni lavori sono stati fondamentali nel dimostrare che l'energia accumulata nei materiali è causa non solo di effetti termodinamici, ma anche di cambiamenti nella microstruttura identificati come ricristallizzazione dinamica. In conclusione, il lavoro a professor Rittel ha portato a definire un cambiamento paradigmatico nella costruzione di modelli di fenomeni di localizzazione dello scorrimento dinamico, combinando insieme concetti di scienza dei materiali con la meccanica, con simulazioni numeriche. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Nel contesto della storia europea tra l'età della rivoluzione, la restaurazione e il 48. Attraverso le memorie del protagonista e dei suoi contemporanei e con un ampio repertorio di fonti, l'autore offre un quadro assai articolato della storia politica e sociale dell'epoca, con particolare attenzione alla storia diplomatica europea prima, durante e dopo il congresso di Vienna. Si tratta di un libro che alla finezza dell'analisi e all'eleganza della scrittura unisce una grande capacità di ricostruire la trama complessiva della politica europea tra rivoluzione e restaurazione e che offre spunti interessanti anche per il presente. Ancora congratulazioni. L'Accademia attribuisce anche due borse di studio che i vincitori hanno già cominciato le ricerche, ma una di queste è presente in sala, è la vincitrice della borsa di studio intitolata d'Angela Agostinelli-Gili ed è stata attribuita per il progetto di ricerca e progettazione del URI Digital Redout System ad Alessandra Lai. Prego di venire qui così. Bene, congratulazioni. Ho cominciato le ricerche? Ho cominciato, sì, già sono quattro mesi, sono in Germania. Grazie mille per l'opportunità, è stata una grande soddisfazione essere scelta tra, immagino, tanti applicanti. Non solo il prestigio, ma anche realmente un aiuto pratico per uno studente come me che si trova al primo anno di dottorato all'estero e quindi comunque è una doppia soddisfazione, diciamo. Quindi ancora grazie mille. Grazie e auguri per il futuro della sua ricerca. Prego. L'altra borsa di studio che è intitolata Ernesto Ben Omega Petrazzini è stata assegnata al dottor Vito Musci per il progetto di ricerca e sviluppo di un codice di calcolo della propagazione del rumore broadband in turbina e il dottor Musci è anche lui all'estero e quindi non è potuto essere presente.